35 imbarcazioni in gara per tre giorni di regate nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto pronto per il campionato italiano mini-altura di vela presentato questa mattina nella sede della Lega Navale del Molosiglio. La competizione si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno. Gli equipaggi in gara si sfideranno in una tre giorni di regate su percorsi a bastone nel tratto di mare davanti Cassel del Lovo. Ai nostri microfoni Claudio Polimene del team Mary Poppins, campione in carica. Come sempre in queste manifestazioni è previsto un percorso a bastone e sono stabilite un numero massimo di prove in otto su tre giornate. Vedremo se il tempo ci aiuta a svolgerle tutte e otto e veramente spero e mi auguro che la manifestazione riesca bene. Siamo in tanti, siamo agguerriti, cercheremo di difendere almeno come team di Mary Poppins la recente vittoria del zonale. Mi auguro che tutto ciò aiuti a promuovere la vela nel Golfo ancora più di quanto sia riuscito di recente l'organizzazione delle manifestazioni fino ad oggi svolte. Siamo in tanti, siamo in tanti, siamo in tanti, siamo in tanti.